Pasqualino, toccate... Arte prese in giro, ovvero cosa contraddistingue un'opera d'arte da un semplice pezzo di monnezza. Mostra performance di Pasqualino Conti e Patrizia Frini. Dal 10 aprile al 1 maggio, Associazione Sassetti Cultura. Via Volturno 34, Isola Milano. E il 1 maggio? Un altro 1 maggio, con Gianluca De Angelis, Walter Leonardo, Flavio Pirinzo, Vengo Conte, tutti e buoni! Falco aperto per tutti!